Donne per diritti. Luisa, manca un mese alla giornata contro la violenza sulle donne e continuano ad esserci femminicidi, l'ultimo proprio poche ore fa. Parliamone. Parliamone, non dico sempre le stesse cose, però ogni volta ritrovarsi davanti a una notizia del genere, una notizia trattata in cronaca nera in cui si ripetono sempre gli stessi stereotipi, cioè appunto lui l'ha uccisa perché l'amava, lui l'ha uccisa perché lei si era separata da lui, lui l'ha uccisa perché lei se n'era andata, perché aveva una storia con un altro, ci sembra un po' eccessivo. A un mese dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma soprattutto dopo ormai anni in cui cerchiamo di spiegare che la narrazione del femminicidio deve essere fatta in maniera corretta perché è una forma di prevenzione della violenza stessa, del femminicidio, perché è importante quando si raccontano certi fatti aderire alla realtà, ecco ci sembra un po' ormai stancante. Lo dico sinceramente perché appunto con tutta la formazione che comunque l'ordine fa, io stessa mi occupo della formazione dell'ordine dei giornalisti del Lazio come commissione pari opportunità, su questi temi ci sembra un po' eccessivo, anche perché si rimanda a un'idea completamente alterata e quasi giustificatoria. Quando una donna si dice appunto viene uccisa in quanto donna significa una cosa ben precisa, la parola femminicidio ha un significato ben preciso, non possiamo distorcere quel significato stesso. Cosa significa? Un omicidio che diventa femminicidio è appunto dettato da un movente che non è la gelosia, che non è la passione, che non è il culmine di una litigata, ma appunto da una relazione che è un tipo di relazione violenta, si chiama violenza all'interno dei rapporti intimi. Noi sappiamo insomma i dati, in questi ultimi anni insomma il dato del femminicidio, cioè dell'uccisione proprio, quindi del culmine di quest'iceberg che è la violenza sulle donne, oscilla in Italia tra 110, 115, 130 donne all'anno uccise in relazioni soprattutto intime. E comunque insomma per moventi o comunque cause legate alla violenza, non legate ad altro, legate alla violenza, cioè una dinamica di violenza all'interno del rapporto che può essere un partner, un ex, ma anche un fratello, anche un parente, anche un padre, che a un certo punto proprio perché la donna in questione sfugge ad alcuni canoni, ad alcune regole che sono delle regole legate allo stereotipo di genere, viene punita. In questo caso, come in tanti altri casi, viene punita perché si è sottratta al controllo del partner e quindi un partner violento che cosa fa? Se tu ti sottrai al suo controllo, quindi c'è una forma di possesso, non di gelosia, che sono due cose ben diverse, pone fine alla tua vita perché tu sei solo sua e deve rimanere sua. Questo non è un momento passionale, questo è legato a una dinamica di violenza perché è legato al possesso, all'oggettificazione di quella donna, di quella persona e quindi c'è proprio una violazione dei diritti umani, cioè io non ho diritto a vivere la mia vita come donna e come persona, proprio perché nella mentalità e nella cultura c'è questo tipo di stereotipo e nient'altro, non c'è un dato biologico, non ci sono altri dati di tipo fattuale. Né all'interno dei femminicidi noi abbiamo visto, insomma, con i dati anche alla mano che in una situazione di diminuzione degli omicidi in generale, il discorso invece dei femminicidi oscilla, comunque insomma è un aumento, si può oscillare di poco, però in relazione agli omicidi totali i femminicidi sono sempre di più. Anche il Covid, Luisa, ha inciso, cioè la segregazione dentro casa, la coabitazione diciamo obbligata Quella ha inciso moltissimo soprattutto, sì, sulle dinamiche di violenza domestica e quindi questo in tutto il mondo ci sono stati luoghi in cui la violenza è aumentata addirittura del 100%, 200%, insomma è aumentata in tutti i paesi, in Europa, negli Stati Uniti, in America Latina, in Asia, in Africa anche moltissimo perché all'interno di una dinamica del genere stare chiusi in casa ovviamente significa essere soggetti a una maggiore esposizione della violenza stessa quindi anche questo è un fattore importante, la pandemia è stata un fattore importante in ogni caso all'interno di questi numeri, cioè in una diminuzione in Italia di omicidi e un aumento dei femminicidi, noi ci dobbiamo chiedere perché c'è questa cosa e come mai non si torna mai indietro, diciamo sembra che il fenomeno non accenni mai a diminuire nonostante la sensibilizzazione, nonostante la consapevolezza che comunque aumenta in ogni caso anche delle stesse donne, insomma perché siamo sempre allo stesso punto. Esattamente, allora principalmente una delle cause che noi possiamo vedere è una causa immediata cioè noi parliamo sempre, parliamo di femminicidi eccetera ma tutto quello che siamo riuscite anche ad ottenere anche come insomma anche l'attivismo femminista è riuscito a ottenere rispetto a una tutela maggiore delle donne e dei diritti delle donne alla fine non vengono applicate. Noi abbiamo un importante strumento che è la Convenzione di Istanbul, che non ci stanchiamo mai di citare che è una convenzione internazionale per il contrasto della violenza su ragazze, donne, ragazze e bambine completa tutto, ci sono anche i matrimoni forzati dentro fatta molto bene da noi in legge ma non viene applicata, non viene implementata all'interno del nostro codice addirittura ci sono giudici che neanche la riconoscono e quindi quando l'avvocato si rifà alla Convenzione di Istanbul addirittura viene recusata come aggancio. Questa cosa è assolutamente insopportabile direi ormai e questo è dato soprattutto dall'assenza di una formazione seria di giudici che si occupano di questi casi, di casi di violenza. In Spagna c'è il tribunale proprio specifico per questo tipo di reati invece qui no, la soluzione potrebbe essere quella del tribunale della famiglia ma non c'entra assolutamente niente. Fatto sta che l'indagine che ha fatto la commissione femminicidio presieduta da la senatrice Valeria Valente quest'estate ha messo in luce alcuni dati importanti di cui si è parlato molto poco dove all'interno dei tribunali la procuratrice Monteleone e la Laura Sabatini dell'Istat hanno evidenziato che c'è un'invisibilità della violenza, soprattutto la violenza domestica perché ricordiamoci la violenza sulle donne, l'80% è violenza domestica non solo in Italia, ovunque. La violenza domestica è ovunque anche nei paesi dove comunque le donne sono più emancipate, nel nord Europa dove appunto ci sono dei governi a maggioranza anche femminile non basta perché la violenza domestica c'è anche lì. Allora di fronte a un fenomeno così il tribunale non può avere un'invisibilità totale nel momento in cui va a giudicare situazioni di conflittualità che invece sono situazioni di violenza all'interno, di separazioni perché poi è lì il nodo, no? Perché si dice lei si voleva separare? Ma quella si vuole separare perché parte nel violento. Allora tu indaga questo prima di scrivere. In ogni caso, anche quando si è in tribunale, il tribunale deve saper riconoscere se c'è una situazione di violenza domestica e non scambiarla per conflittualità, non dare l'affido condiviso nel caso ci sia un partner violento e soprattutto non dare la colpa alle donne perché gli uomini violenti sono ovunque. Un uomo può anche cambiare a un certo punto e diventare possessivo, controllante e tu non te ne sei accorta perché comunque insomma lui all'inizio si poneva in maniera diversa, poi ti sei ritrovata con i figli e non hai voluto mettere in discussione un matrimonio e ti sei beccata anni di violenza domestica. Insomma, questo è facile da capire. Però se non viene riconosciuta nei tribunali, nelle procure viene riconosciuta ma ancora il 20-30% perché non ci sono magistrati un po' a macchia di lopardo, questa situazione in Italia. Non ci sono magistrati preparati su questo, per esempio a Roma ci sono la Monteleone appunto al capo del team antiviolenza ma non dappertutto c'è. Allora quando c'è questo problema nei tribunali si capisce che il lavoro diventa più difficile. Luisa, ma tu dicevi che una parte di responsabilità è anche di noi giornalisti che veicoliamo male i messaggi. Non a caso stai facendo corsi su corsi di deontologia professionale in materia, però molto spesso insomma anche chi dovrebbe trasmettere un messaggio, trasmettere un'informazione non lo fa nella maniera corretta. Per cui ritorna il tema, come dicevi, del si era separata, se n'era andata e quindi lui non si rassegnava. Insomma anche abbiamo visto l'ultimo caso di queste ore che rientra in questa casistica. Sì, assolutamente. Come dicevo appunto all'inizio raccontare la violenza in maniera corretta è una forma di prevenzione perché cambia la cultura, cambia la mentalità. Se noi invece continuiamo a sostenere che un uomo ti può uccidere dopo una litigata o un uomo ti può uccidere perché ti ama, noi diamo una cattiva anche educazione ai giovani, tra l'altro tra i giovani e adolescenti. Questo è un disastro, è un disastro perché i rapporti sono già molto difficili. In più ci sono molti casi appunto di fidanzatini che poi invece sono dei ragazzi violenti e che impostano un tipo di relazione tossica e la ragazza non si rende conto perché tutto quello che c'è intorno gli suggerisce che quel tipo di relazione è solo perché l'uomo, l'uomo ragazzo insomma, l'ama davvero, l'ama tanto e quindi sottostà a quel tipo di relazione che poi può diventare anche non solo pericolosa ma addirittura può morirci. Il caso di Roberta Ragusa per esempio, 17 anni che è stata uccisa dal partner, quindi giovanissima che è stato un po' di tempo fa. Allora da questo punto di vista noi abbiamo una responsabilità molto grossa. Non si usano queste parole, se tu vai a vedere anche i titoli di oggi sul femminicidio di Brescia, non si usa la parola violenza, non si usa la parola possesso, controllo. Tra l'altro lui aveva premeditato tutto, il femminicidio era stato premeditato, tant'è che aveva anche previsto il fatto che la figlia della vittima non fosse a casa, ha 17 anni, quindi lui comunque si era preparato. Dopodiché un femminicidio dove una donna viene presa dalla macchina, portata in mezzo alla strada, presa, martellata in testa e fino a ucciderla. Tu capisci che noi non possiamo raccontarla così. Prima di tutto è un femminicidio estremamente ferato, dopodiché non possiamo dire che lui poverino l'amava. Lui è stato riportato, lui dice, c'erano dei sentimenti, ma il sentimento era un sentimento di violenza, non era un sentimento d'amore. Allora anche quando noi riportiamo le parole dell'autore del femminicidio, dobbiamo contestualizzarle. Quando noi raccontiamo questa realtà, noi dobbiamo essere più fedeli alla realtà, cioè senza farci film, ah perché lui, no? Cioè senza romanzare e nello stesso tempo anche contestualizzare, andare a indagare alcune cose rispetto ad altre, non diciamo mettere tutto nel calderone, no? Infatti si parlava durante una formazione nelle Marche con il presidente dell'Urre delle Marche, Franco Elisei, sul discorso di preparare anche i giornalisti a intervistare una sopravvissuta o anche un offender. Come si fa? Si prende da esempio i colloqui che loro fanno all'interno dei centri antiviolenza dei CAM, che sono i centri di ascolto maltrattanti. Cioè come avviene un colloquio di un'operatrice con una sopravvissuta? Hai guanti bianchi, non va a scavare, cioè non la forza, la deve mettere a suo agio, deve essere un colloquio molto molto dove lei viene fatta parlare più che altro, più che essere incalzata, perché se no è rivittimizzante, cioè lei poi sta male e anche si chiude e questo noi non dobbiamo farlo, dobbiamo saperlo fare questo mestiere. Certo, ascolta, a proposito di mestiere, ecco sconvolgente è anche il negazionismo del femminicidio, insomma c'è stato un caso che ha fatto scuola, ecco quello del giornalista Vittorio Feltri a proposito del caso genovese, ecco vogliamo ricordare anche questo caso. Sì, è un episodio da condannare, tra l'altro lui è stato appena eletto al Consiglio Comunale di Milano con Fratelli d'Italia e beh io dalla Meloni, che fa sempre insomma molte filippiche su tutto, mi sarei aspettata una sospensione di questo Feltri dall'incarico che si accinge appunto a ricoprire perché è quasi un inno allo stupro, cioè si confonde lo stupro con la sessualità, lui dice sì avrà anche stuprato ma io lo ammiro perché ha fatto sesso, usa un'altra parola comunque, ha fatto sesso con una ragazza per più di 20 ore, io non duro più di 6 minuti mi sembra. Allora questo significa proprio non solo sostenere ma inneggiare lo stupro, confondere lo stupro che è una sofferenza per la donna, è un'esposizione di potere, di prepotenza da parte dell'uomo che non si interessa assolutamente a quello che sta provando la donna, il sesso invece si fa in due, quindi non è un'esposizione prepotente di virilità ma è un rapporto a due, cioè verrebbe anche a dire Feltri, no? Cioè che idea c'ha della sessualità, cioè un'idea completamente distorta se tu addirittura cioè inneggi e esalti un rapporto di violenza, tra l'altro la ragazza è stata anche seviziata, dai è uscita con una scarpa, una ciabatta, coperta di sangue, un lenzuolo, non solo di cattivo gusto, ma è rivittimizzante, uno si chiede proprio ma che c'hai nel cervello per far torire delle robe del genere, capito? C'è proprio una distorsione e ovviamente questo ha fatto parlare molto, però io non ho visto prese di posizione da parte, diciamo appunto di chi invece per esempio l'ha sostenuto in queste elezioni e secondo me è un uomo del genere non dovrebbe stare dove sta. Anche perché ha una responsabilità pubblica quindi dovrebbe essere dal comportamento esemplare. Senti ma parliamo di una giornalista donna, ecco penso a Barbara Palombelli che a Forum è tornata sulla responsabilità delle donne che subiscono violenza. Ecco già in precedenza c'erano stati dei suoi pronunciamenti con successive smentite sul perché poi un uomo arriva ad avere determinate reazioni nei confronti di una donna, insomma ha fatto qualcosa, non ha fatto qualcosa. Secondo te perché ancora diciamo ci sono colleghe donne che parlano di responsabilità femminile nei casi di violenza? Beh questo è altamente rivittimizzante, tra l'altro Barbara Palombelli era già stata segnalata al Consiglio Disciplina per appunto la frase infelice che dieci giorni fa aveva espresso pubblicamente nella sua trasmissione dove appunto parlava della responsabilità delle donne rispetto alla violenza, quindi diceva che non bisogna solo vedere le responsabilità dell'uomo ma anche se quell'uomo era stato portato all'esasperazione. Ecco il caso di oggi del femminicino di Brescia è proprio il contrario di quello che diciamo noi. Tra l'altro adesso c'è anche un articolo che è il 5 bis che fa parte il nostro codice deontologico, quindi queste robe qua sono punibili dall'ordine, cioè sono disciplinate. Noi abbiamo lottato per quell'articolo 5 bis in cui appunto si chiarisce come il femminicidio, la violenza sulle donne, il rispetto del genere devono essere in qualche modo insomma espresse da chi fa il giornalista, lei è come feltre completamente fuori dal seminato rispetto a questo articolo perché è come dire che appunto l'ex che oggi ha ucciso la povera Elena in realtà era esasperato, era esasperato perché lei lo aveva lasciato, perché lui stava male, cioè voglio dire non è che la gente viene lasciata e allora ammazza perché se noi dovessimo applicare questo ragionamento come un ragionamento logico sarebbe mezza popolazione, sarebbe morta perché quanta gente che si lascia, allora siccome tu mi lasci, io ti amo ancora, vengo a casa tua e ti ammazzo. Che ragionamento è? Tra l'altro questi dati sono tutti a carico di uomini, cioè esistono anche alcuni casi dove anche le donne hanno un tipo di comportamento maschile in questo senso, che fa parte dello stereotipo maschile, ma sono numeri molto contenuti, il vero fenomeno è quello maschile e noi parliamo sempre di donne che vengono uccise, ma gli uomini invece che responsabilità hanno? Quindi questa tendenza a deresponsabilizzare gli uomini, a deresponsabilizzare l'offender che poi porta anche a una situazione di impunità, perché dice lui ha avuto delle cause che sono interiori eccetera, porta a perpetrarsi di questa situazione, quindi poi è inutile piangere, quindi tu non puoi dire che una donna è responsabile della sua morte, io non mi sono suicidata, io sono stata uccisa da uno che avevo lasciato perché non mandava più di starci, perché era un violento, perché per cavoli miei, quindi questa è una frase molto pesante. Poi c'è ritornata, l'ha rifatto un paio di giorni fa, sempre a forum, dicendo addirittura che una donna è responsabile perché si sceglie l'uomo con cui fare figli. Questa è una cosa che non si può sentire, prima di tutto non è sempre così, i figli nascono in tanti modi, ma poi io non mi posso prendere sul gruppone una responsabilità di una violenza che subisco, poi è difficile denunciare e tutto quanto, quindi tu giornalista, lei tra l'altro partecipa, ha partecipato a tante cose, convegni sulle violenze eccetera eccetera, da lei non ce l'aspettiamo e non ce l'aspettiamo in maniera reiterata, quindi secondo me è molto grave. Ascolta Luisa, il tuo network, parliamo anche di donne per diritti, ha pubblicato proprio recentemente un'inchiesta sulle molestie nell'ambiente militare, dove esiste un codice molto antico, una legge molto antica, qui parliamo delle forze armate italiane, vuoi entrare nel merito di questo articolo, insomma che offre spunti molto interessanti, insomma su cui riflettere. Sì, l'inchiesta è di Giulia Bosetti, una giornalista appunto di presa diretta che è all'interno di donne per diritti, appunto che è un giornale online praticamente. Che tu dirigi. Ha fatto questa inchiesta e che è andata proprio a vedere che cosa succede in quell'ambiente lì, cioè se noi parliamo di cultura maschilista in generale, lì abbiamo proprio l'apoteosi, la quintessenza, perché comunque l'ambiente militare di per sé maschilista per antonomasia. E c'è un codice militare che afferma al 1941, quindi questi casi quando vengono denunciati, vengono trattati con gli strumenti che in qualche modo noi diamo in teoria del tutto obsoleti, insomma pensiamo siano obsoleti. La cosa più grave è che ha riportato a galla con dei casi specifici che sono all'interno dell'articolo di donne che hanno denunciato delle violenze all'interno degli abusi, all'interno da parte di colleghi, all'interno delle forze armate, non solo non vengono o giudicati in maniera diciamo così corretta, diciamo così, ma le donne vengono rivittimizzate anche a livello pesante. Quindi appunto, diciamo palombelli, perché non si dice che la responsabilità è delle donne, proprio perché poi le rivittimizzi e quindi vengono discriminate perché hanno denunciato. Ecco perché poi le donne non denunciano. Allora se tu hai un 90% di sommerso in Italia, tu non puoi dire che la responsabilità è delle donne, perché le donne non denunciano più e se non denunciano più, quel sommerso non verrà mai fuori e si continua e ogni tanto ci sarà anche una donna morta ogni tanto, in Italia ce n'è una ogni tre giorni. Quindi questo è un fatto importante. Poi ci sono dei luoghi in cui questo diventa anche più pesante. Infatti l'altro articolo, oltre a quello appunto di Giulia Bosetti, c'è anche una piccola inchiesta in cui si va a vedere quello che succede negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è molto molto pesante la situazione, ci sono stati dei casi di famicidi e ferati, c'è stata una ragazza che è stata stuprata, uccisa e poi smembrata col macete per far il corpo, per insomma occultare il corpo, i resti sono stati trovati e lì c'era appunto una ragazza che era stata molestata dalle volte anche da questo suo collega e che alla fine è morta proprio anche perché non ha denunciato. Quindi lui l'ha uccisa. Sì, nella civilissima America accade anche questo, insomma, quindi teniamone conto. Comunque il 90% di sommerso è veramente tanto, cioè praticamente, quindi è un numero che fa molto riflettere. Senti, parliamo anche delle donne afghane, è un argomento che ovviamente non possiamo tralasciare, una donna sportiva, anche questa è notizia delle ultime ore, dunque è stata decapitata una sportiva afghana perché evidentemente il suo comportamento non era in linea con il nuovo corso di questo paese, insomma, con la linea talebana. Ecco, quindi l'Afghanistan comunque è sempre al centro, insomma, del tuo network. Sì, noi abbiamo deciso di pubblicare almeno un articolo a settimana, perché noi siamo un settimanale, c'è sempre un articolo sull'Afghanistan, cioè questa settimana, sulla chiusura di centri antiviolenza, perché i talebani stanno chiudendo centri antiviolenza perché sono catalogati praticamente come bordelli, quindi molte ragazze, donne che si erano rifugiate nel centro antiviolenza vengono rispedite dalle famiglie da dove sono fuggite perché c'è timore appunto per le loro vite. Solo alcuni sono rimasti aperti con pochi ospiti dentro, però sono sempre in pericolo, possono essere chiusi e possono essere le donne presenti giustiziate, come appunto è successo a questa pallabolista, una pallabolista di 18 anni, è stata decapitata perché lei si è rifiutata di lasciare la pallabolo. In Afghanistan, quando appunto sono entrati i talebani a agosto, molte sportive si sono nascoste, si sono date perché c'è il pericolo di vita e perché appunto lì le ragazze non possono studiare, tanto meno lo sport, quindi c'è un vero e proprio regime, quindi il femminicidio è lì all'ordine del giorno, anche questo è un femminicidio. Il femminicidio non è solo nella sfera privata, ma anche nella sfera pubblica e anche statale, cioè lo Stato che si macchia di femminicidio, che non protegge oppure addirittura punisce le donne. Lei è stata decapitata perché non si è allontanata da casa sua, è rimasta a casa sua, è rimasta con la sua famiglia e si è rifiutata di abbandonare la pallabolo e quindi è stata uccisa e la famiglia è stata minacciata al silenzio. Poi questa notizia è uscita e quindi è stata insomma riportata da un giornale indiano, è stata riportata a livello internazionale, ma femminici di questo genere e in questo momento con l'occupazione talebana sono all'ordine del giorno, cioè un pericolo continuo. E quindi è giusto occuparsene ed è giusto occuparsene con continuità. Diciamo a livello redazionale, insomma il network che tu dirigi, donne per diritti, ecco che cosa ha in cantiere, insomma noi faremo il punto ogni mese con te su quelle che sono le tematiche di attualità, insomma dell'universo femminile per dare voce alle donne. Ecco, in cantiere, in preparazione, che cosa c'è? Guardi, posso dire una cosa piccola o una cosa grande? Allora la cosa piccola ma è importante che venerdì prossimo, venerdì 29, ricominciamo le nostre dirette sulla nostra pagina Facebook di donne per diritti con una diretta su speciale elezioni, cioè ci chiederemo dove stanno le donne perché tutti i sindaci sono uomini. E quindi questa cosa invece è una cosa più importante, i primi di novembre usciremo con una inchiesta proprio su questo, sulla violenza domestica non riconosciuta all'interno dei tribunali civili e quindi che cosa succede quando c'è una dinamica di violenza domestica non riconosciuta e il tribunale responsabilizza la donna e toglie addirittura i bambini alla donna per affidarli al genitore abusante oppure per metterli in casa famiglia. Quindi ci occupiamo di… Un altro grandissimo tema questo appunto dell'affido dei minori, insomma in caso di contrasti e di violenze e di rapporti di questo tipo. In questo momento guarda il nodo perché la violenza si sviluppa tutta là, si sviluppa in ambito domestico, è difficile che siano da sconosciuti, è molto più contenuta la cosa. Noi che di Amdile, solo che Radio Amdile Network facciamo con te da questo momento in poi il punto ogni ultimo lunedì del mese. Ecco, di che cosa ci occuperemo il prossimo mese? Già hai dato alcuni spunti che il tuo giornale affronterà, insomma di che cosa vogliamo parlare, su cosa ci concentreremo? Ma ovviamente novembre è il mese della violenza sulle donne e quindi penso ci occuperemo. Torneremo su questo, certo. Però io affronterei anche il fatto politico, cioè nel senso che questo gap a livello di… anche proprio parliamo di potere decisionale dove le donne comunque stanno sempre dietro, fanno un grandissimo lavoro ma non vengono… E non perché sono meno grave, come dice qualcuno. In questi giorni qualcuno anche molto in alto dal punto di vista, ci potrà anche essere forse qualcuno meno brava per carità, però non può essere un principio questo che diventa discriminante, e quindi penso che prima di pronunciare frasi di questo genere bisogna un attimo riflettere. Però vabbè, insomma adesso non anticipiamo niente, ecco riflettiamo su questo grande tema che è quello insomma della differenza anche che viene, delle discriminazioni che le donne subiscono sul lavoro e anche sulle retribuzioni e anche sui ruoli, insomma del perché e del per come. Quindi diciamo che abbiamo un mese davanti per riflettere, però ecco lanciamo già così il sasso per poi diciamo così applicare, per animare un po' insomma il nostro dibattito e vediamo un po' in questo mese come evolve insomma la situazione. Luisa, io ti ringrazio, ti ringrazio di questa partnership a cui Amnil tiene molto e anche un'occasione insomma per rilanciare un po' quelli che sono i temi chiave del tuo impegno e anche del tuo giornale online e anche per diciamo condividere quelli che sono le riflessioni che poi dai temi che vengono affrontati poi possono nascere. Quindi buon lavoro e appuntamento all'ultimo lunedì del prossimo mese. Ciao. Benissimo, grazie, grazie a voi. Buona giornata.